Salve a tutti ragazzi sono Ciccioboemon dice oggi ragazzi sono qua tornati in uno video oggi aprirò con mio fratello il baule un baule un bauletto il clan è un po' scasso perché apriamo due ragazzi due suggeri c'è poi quattro carte cannone 13 cannone ti chiamiamo il culo il cucciolo di drago il cucciolo di drago non mi devo fare niente i ragazzi fino fino all'arena 9 avevo solamente un cucciolo di drago adesso ce l'ho a livello 5 ma andiamo avanti ok lo usiamo questo è il mio deck no no va assolutamente bene come fare dei cambi che cosa sono vuoi usarlo ma va bene c'è allora se tu fai infatti fai di questo leva aspetta io farei per me che c'è dentro carta ma appunto c'è tra l'altro rilasciano questa gang di goblin gang? si 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 allora ma prima potenzio questo e lo vorrei mettere non solo ragazzi mettimenti il cannone perché il cannone è interessante no si diminuisce lì si è troppo certo ragazzi facciamo il baule della corona insieme a mio frate e mio brother allora tanto sto video se prende 20 più senza ok ragazzi allora che buttiamo un cannone si dai facciamo di questo ragazzi vai 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 che inizia da morire no no appunto ho sbagliato a mettere lo scheletro gigante ragazzi vabbè lo supportiamo con i goblin angeli vai come va o non è male in effetti è arrivato ormai appunto abbiamo fatto i danni proprio i grandi danni mettiamo anche un cucciolo di drago ragazzi abbiamo vinto il gioco quasi dai lui c'è mini pecca a livello 3 ragazzi come state vedendo sono in arena 3 e appunto sono quasi per una 4 addirittura quello scheletro gigante ma cosa ha lanciato le frecce in mente ragazzi io punterei alla seconda no ma puntiamo alla terza dobbiamo fare il baule della corona infatti il dottore non è lui mi gli becca sprecato ci sono i moschettiere ragazzi cioè a che livello ce l'hai due moschettiere un 9 all'8 all'8 eh bello forte ragazzi cioè poi hai tutti voi barbari scelta a 10 ragazzi all'11 all'11 potentissimi ragazzi qualche giorno faremo qualche giorno no non più ragazzi sono solo poca roba 100 euro al giorno si e poi qui ha giocato male no qua ha giocato male esatto esatto ha ragione mio fratello ha giocato male questo è cinese ma ci sta ragazzi ci sta vabbè pure il cucciolo di drago che l'ho portato a livello 2 non è malissimo ehm ho l'ho attacchio non ha più rischio non ha più rischio lui non è rischio è insomma si portalo si portalo dai sgherri forse non muore lo scherzo di gigante ragazzi no ok lo scherziere credo che sei arrivato sì sì le frecce inutilmente qui gli hai fatto credo si si ho vinto ragazzi tre corone fatte e possiamo alla prossima partita ragazzi vai ragazzi ho trovato i buoni leggendari ah no allora ho sbagliato ragazzi ehm 929 trofei quasi arena 4 1100 guardate ragazzi dai speriamo che in live ehm andiamo in arena 4 ok che combo faccio ora? intanto mettere uno un muschettiere da dietro ma certo ecco qua beh lì la scegliere non fai niente quello giocato è morto ecco appunto non sai assolutamente giocare ok ok ci ha fatto i big danni anzi ci ha fatto la corona ma ci sta ragazzi ci sta perché ci sta ragazzi ci sta ci sta ma mia la strega è potentissima anche a livello 1 io l'ho tolta anzi l'hai tolta tu ecco qua ecco qua qui no il cannone non un muschettiere dai da veloce però anche noi gli abbiamo fatti danni ragazzi anche noi gli abbiamo fatti danni ragazzi i copri lanciati sono utilissimi tu che li veloce l'hai non solo 10 ma non gli ho shoppando ragazzi sempre shoppando hashtag shopp non c'è no jamming no jamming ehm vai 2 a 0 ragazzi una palla di fuoco così a caso ehm perfetto mamma mia i danni il muschettiere buttiamo mini pecca vediamo quello che fa questo bellissimo pecca mini pecca attenzione ehm ehm niente non ho fatto niente peccato peccato che non lo uso ok mmm moschettiere dai ragazzi dobbiamo fare subito questa altezza curione vediamo ragazzi non potete capire come ho vinto cioè non potete capire come ho vinto questo è su tv royal tu l'hai vista? sì ma dopo il rally è raggiungibile sei quante partite belle mamma mia eh vabbè cioè ragazzi una partita ora fai l'ultimo piaccio vedere fai l'ultimo piaccio vedere ok ragazzi guardate che è successo ho stoppato prima quando è successo tutta questa cosa ehm perché ragazzi a quest'ora durava troppo il video guardate c'è ditemi come ho fatto però va bene ragazzi ok passiamo alla prossima partita ci mancano altre ehm controcordone ma ci sta ragazzi ci sta vero? ci sta ragazzi mi ok come parto dai dimmi tu come parto diciamo che devi mettere un cannone un cannone così a caso vabbè vabbè ma si ragazzi ok lui c'ha il barile dei mongoloidi e io lo fermo con il cannone tranquillamente le frecce con questo deck vuoi anche fregatemi le frecce le frecce zitto zitto le frecce non ha senso cioè le frecce non ha senso cioè la buttate così ok ragazzi tre corone grazie a mio fratello che ha giocato ma poi ho giocato io perché mio fratello non sa giocare vero? arena 9 solo shoppando anzi arena 10 è lui poi farò anche un video se volete ehm c'è tutto è troppo altissimo a livello vero? si ok ho tutta difesa vai io parto con goblin lanceri ok ragazzi sta giocando il mio fratello che ha scelato il suo profilo il mio shoppone allora ok ragazzi e niente ehm lascia che non jamming in this way ok cosa hai trovato nel baule del cannone? un'epica poi nel baule magico troppato qual'epica? ah ha trovato il baule magico che ha trovato in battaglia il tronco a livello 2 ma non mi faccio altamente ma il baule del clano quale quale epica hai trovato? ehm clonazione clonazione è brutto è brutto non è forte cioè se la migliori non ha senso forse solo i danni ma le punti di vita no perché con un colpo uccidi tutto ok ok moschettiere penso che abbiamo preso la terza corona che grande dai dai abbiamo vinto uno e colpisce a Moschetti dai 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 ragazzi no dai Allora, butto la palla di fuoco Abbiamo vinto ragazzi Ok Ok ragazzi Abbiamo il baule della corona Allora Secondo te che trovo? Niente penso Ah, due gemme, ma va bene Sgherri, buono, buono Buon barolo al canale E l'ultima capanna di barbari Va bene, va bene, va bene, va bene Io ho potenzio Potenzio gli sgherri che sono fortissimi Qua E niente, va bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se fosse così raggiungiamo i 15 like E noi ci vediamo in un prossimo video Bella